Una bellissima giornata per lo sport varesino, nazionale e internazionale, visti tanti atleti presenti a questa cerimonia di inaugurazione. Un impianto sportivo importante per il nostro territorio, per la città, ma direi per tutta la provincia. Non a caso ci sono tante associazioni sportive, tanti rappresentanti delle amministrazioni e delle istituzioni, segno del fatto che questo impianto è uno degli impianti più significativi a livello provinciale. È un bel momento, è un bel momento sicuramente per chi pratica questo sport, ma è un bel momento anche perché abbiamo il grande campione Baldini a questa inaugurazione. Farei un grandissimo applauso. È un onore per la città ospitarlo in questo importante appuntamento e soprattutto dà una serie di responsabilità a coloro che qui si alleneranno, visto che come avete potuto notare è stato lui a tagliare il nastro e quindi coloro che si allenereranno su queste piste saranno investiti di una grandissima responsabilità, ovvero fare bene almeno quanto Stefano Baldini. Il che non sarà semplice, quindi è sicuramente una grandissima responsabilità.